Giuseppe Tambone, una novità in senso assoluto, soprattutto una grande opportunità, ne vogliamo parlare? Sì, diciamo che questo corso in politica e strategia delle società calcistiche è una grande novità per l'Abruzzo. Personalmente dopo un'esperienza pionieristica con l'alum di Casa Massima ho accolto l'invito dell'Università di Teramo che ha aperto a sua volta le porte di nuovo al mondo del calcio. Dopo la tradizione decennale, ricordiamo che parliamo di una università che per prima ha attivato corsi di studio sullo sport e sul calcio nel lontano 95-96 e che poi è arrivata anche come prima d'Europa a svolgere tutta una serie di attività, corsi di laurea, facoltà, master, dottorati di ricerca. Quindi parliamo di un'eccellenza assoluta nel mondo del calcio. Al fianco dell'Università di Teramo ci sarà l'associazione dei direttori sportivi ADICOSP che collabora a questo progetto e in poche parole è un corso di preparazione per sostenere l'esame da direttore sportivo della Federazione Italiana Gioco Calcio. Praticamente un gemello di Dico Verciano. Motivo di grandissimo orgoglio per la nostra regione, corso accreditato, cosa non meno importante direi, dalla FIGC. Sì, è proprio questo il punto. La FIGC che seleziona dei partner di formazione. Quello che cerchiamo di formare in questo corso è un manager a tutto tondo perché abbiamo pensato, proprio per marcare questa situazione, di individuare cinque indirizzi. Cinque indirizzi che per il momento divergono sulle modalità e sulle materie che si studieranno. Perché? Perché il primo sarà quello classico per il direttore sportivo, poi c'è quello amministrativo, gestionale, organizzativo, che sono le figure di segreteria e di quant'altro fa parte dell'organizzazione dei club. Poi ci sarà un corso per player and match analysis, quindi sono gli osservatori che in questo momento la scoperta del talento e la corretta scoperta del talento credo che sia una necessità assoluta. Imprescindibile. Eh certo. Ne faremo un altro di indirizzo dedicato all'impiantistica e alla sicurezza perché è un problema e bisogna migliorare con i profili. E poi ne apriamo un altro in via sperimentale, chiamiamolo così, sul manager di sostenibilità perché l'UEFA sta attivando dei progetti, dovremmo arrivare e l'Università di Teramo ha accolto questo indirizzo. Per cui ecco, come vedi, abbiamo una platea di indirizzi che è forse limitativo dire direttore sportivo, ma significa manager calcistico a tutto tondo. Il corso dura 190 ore, le iscrizioni si chiudono il 23 settembre. Ci sono dei requisiti particolari per partecipare a questo corso? In parole povere, posso partecipare anch'io? A occhio e croce sì, perché mi sembri uno che ha i 25 anni già accantonati con la torta e le candeline, mi sembri uno che ha il giusto livello di formazione scolastica con la scuola secondaria, il diploma secondario e poi mi sembri uno che ha abbastanza le basi per potersi cimentare. È un corso che non è semplicissimo perché ci abbiamo inserito di tutto dal digital all'inglese, all'attenzione al bilancio, tantissimo sul match and play analysis, tutte le dinamiche organizzative. Insomma, è bello tosto, però chi esce da qui ha la cassetta degli attrezzi per cui in qualsiasi situazione, anche la più impervia, saprà muoversi. Per quanto riguarda le ore, abbiamo 120 uguali per tutti, che è il protocollo di Coverciano sostanzialmente, 30 ore di laboratorio dove faremo approfondimenti sui regolamenti, tesseramenti, contrattualistica, eccetera, e su questo aspetto di divisione delle gare che è l'oggetto dell'esame di Coverciano. A questo nel laboratorio, nelle 30 ore, ci abbiamo anche aggiunto l'inglese e il pronto soccorso. E poi ci sono questi indirizzi a scelta, ciascuno di 40 ore, a completare, dove ognuno ha la possibilità di poter approfondire e magari crearsi un percorso diverso da quello del semplice direttore sportivo.